Premesso che leggere per me è un piacere, è proprio un piacere complessivo, diciamo, integrale. Non mi posso sempre permettere di leggere ad alta voce, sarebbe anche faticoso, credo, leggere sempre in qualsiasi momento ad alta voce, sarebbe anche imbarazzante in alcuni casi. La lettura silente è una lettura avida, domestica, di studio, di riflessione. La lettura per gli altri ha un piacere diverso, completamente diverso, ed è una lettura che può offrire, può generare altro da sé. Magicamente. E quindi da una parte, mi piacciono entrambe, ecco, direi che sono per me essenziali l'una all'altra, le due modalità. Entrambe sono vasi che si continuano a passare un liquido prezioso. Su sta frase è perfetta.